Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Toukens e benvenuti in un nuovo video guida di Fortnite. In questo video ci andremo ad occupare del Fortnite numero 49, da come potete leggere questo si trova nella caverna di ghiaccio di Drog. Come sempre prima del video voglio salutare alcuni ragazzi che nei video precedenti mi hanno chiesto di essere salutati. Saluto quindi Matteo, Raffaele Faronato e Giuseppe Palopoli. Se anche voi volete essere salutati nei prossimi video guida con un commento lasciate l'hashtag e salutami. Inoltre vi invito a lasciare un bel pollice in su, a condividere il video con i nostri amici e a iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere le notifiche di tutti i futuri video guida. Come detto nell'inizio video adesso ci andiamo ad occupare del Fortnite numero 49. Per trovarlo ci dobbiamo buttare nella caverna di Drog. Questa caverna si trova dopo queste tre casette, infatti da come potete vedere qui c'è un'apertura. Voi dovrete entrare da essa ed in basso troverete la casetta. Qui ragazzi troverete il Fortnite. Come sempre lo dovete raccogliere per portare a termine la sfida. Quindi ragazzi spero che questo video vi sia stato utile e come detto lasciate un bel pollice in su, condividete il video con i nostri amici ed iscrivete al canale attivando la campanella per non perdere le notifiche di tutti i futuri video. Come sempre vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao